Il problema della violenza domestica sulle donne sta emergendo sempre più e sta diventando una delle priorità di tantissime associazioni e di tantissimi governi. In Norvegia ogni anno circa un milione e tre di donne, una su quattro per intendersi, sono vittime di violenza da parte degli uomini, per cui è stata recentemente lanciata una campagna di sensibilizzazione decisamente d'effetto. Le immagini mostrano una coppia di sposi, visti mentre fissano l'obiettivo, sembrano contenti e assolutamente normali, ma se si gira la foto appare il braccio pieno di lividi della donna tenuto fermo dietro la schiena dall'uomo. Il messaggio è quello di invitare amici, parenti e conoscenti a riconoscere i segni chiari portati sul corpo di chi è vittima di violenza e a denunciarli.